Un saluto dall'Etigi. Della mobilità da domani, primo settembre, tornano attive le zone a traffico limitato notturne. Si comincia con Trastevere e San Lorenzo, in vigore dal mercoledì al sabato, dalle 23 alle 3. Poi il venerdì e il sabato, attive anche centro e testaccio sempre dalle 23 alle 3. Sono rimaste attive anche ad agosto e continuano a seguire i consueti orari, le zone a traffico limitato diurne, di centro, tridente e Trastevere. Su romamobilita.it tutti i dettagli, gli orari e le mappe delle ZTL cittadine.